Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di zucca cannella e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo doppio zero, polpa di zucca già cotta, zucchero semolato, olio di semi di girasole, uova, amaretto di saronno, gocce di cioccolato fondente, cannella in polvere, vanillina, sale, aroma di arancia, lievito per dolci vanigliato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca e la facciamo frullare per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo zucchero, le uova, l'olio ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, la vanillina, un pizzico di sale, la cannella, l'aroma di arancia, il lievito e l'amaretto di saronno. E facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Aggiungere le gocce di cioccolato ed amalgamare con la spatola. Trasferire in una tortiera del diametro di 20 centimetri ben imburrata. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta di zucca, cannella e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie Grazie